Scegliere l'app che dà i servizi più aderenti ai propri bisogni e attraverso questa app poter pagare la sosta negli stalli blu del comune di Napoli. Cinque nuovi partner si uniscono ai tre che hanno portato avanti la sperimentazione con l'obiettivo di eliminare del tutto l'uso della carta e dei vecchi titoli di sosta per pagare il parcheggio nelle strisce blu. Sui telefoni dei napoletani stanno per arrivare otto applicazioni di comprovata esperienza italiana ed internazionale selezionate da ANM, ciascuna con un'offerta personalizzata di servizi e accessori. I dati saranno trasmessi in tempo reale, si pagheranno i minuti effettivi e sarà impedita la contraffazione. Oltre al risparmio per la stampa, nell'ultimo anno si è già registrato un incremento d'uso del 40% per un incasso di 700 mila euro, convincendo l'azienda a lanciare definitivamente il progetto. Nel 2019 abbiamo assistito a un netto incremento della vendita dei titoli dematerializzati che è passata ad oltre il 9%. Abbiamo assistito ad una contemporanea riduzione dei grattini che noi tenderemo a dismettere nell'arco dell'anno, cioè sostanzialmente a eliminare la modalità cartacea e a consentire il pagamento o attraverso parcometri o soprattutto attraverso le nuove app a disposizione dei cittadini. Avremo vari operatori che consentiranno con app di pagare i parcheggi, a questi evidentemente non scompariranno le emettitrici dei biglietti, che anzi ANM si sta attrezzando per potenziare le vendite ulteriormente. È un importante servizio per vendita alla città e è una di quelle politiche che sono anche previste nel piano urbano della mobilità sostenibile, di cui ogni tanto io faccio un elemento di riferimento, che rappresenta un po' la pianificazione della mobilità per vendita in città. Questo ci consente anche di avere in futuro servizi pubblici di trasporto più facilmente integrati praticamente fra di loro.